Ciao a tutti ragazzi, qui c'ho il Cracko52, io sono qui per cominciare Ghost Recon! Quando ho detto Ghost Recon, non vedevo quale Ghost Recon, comunque ho ricevuto un po' di casino per provare a registrare, perché è un gioco vecchio, come potete vedere, in 4 terzi, il menù non so perché è il menù in 4 terzi, però è il gioco in 6, in 16 noni, quando siamo in game e quindi oggi ci sarà un video solo, perché è stato un disastro registrare sta roba allora, premessa, questo gioco non è un gioco stealth, non è un gioco tattico questo è un rage game, bisognerà abusare tantissimo del quick save e quick load perché i nemici hanno l'hambot, hanno l'hambot specialmente se sono dentro a un edificio o dietro una porta, è impossibile, già io ho fatto difficoltà normale, era un disastro era un disastro, quindi facendo la difficoltà difficile, lasciamo perdere quindi, visto che i bot, i nemici hanno l'hambot, io mi userò solo un trucco solo quello della corsa, perché mi rompo il cazzo ragazzi, veramente, vedere, vedermi io che cammino per 4 minuti per tutta la mappa tornare indietro al punto di estrazione, non è divertente quindi, questa sarà l'unica cosa che userò, e il resto basta, perché non me ne farà niente non mi serve altro, è solo che per facilitare il trasporto, il movimento nella mappa, correremo un po' di più perché veramente ragazzi, là, è lento, è lento, è lento, non ce lo posso fare, campagna allora, queste qui sono un paio di cose che ho fatto così per provare allora, facciamo elimina, si, elimina, si, facciamo anche qua, eh, ho tutte, questa è la campagna principale le due espansioni, faremo anche quelle lì, allora, mettiamo elite, non ho già paura mettiamo, il nome della campagna mettiamo, eh, no, eh, spettro, no, eh, forse è che ricognitore fantasma spettro, eh, ricognitore, ricco, ricognitore, ricognitor, perché il fantasma è troppo rumo quindi spettro, ricognitor, elite, avanti, tutto in italiano, a Steam non è in italiano ho trovato una patch che muoviva un po' di, un po' di, un po' di file, per farlo in italiano siamo stati inviati su richiesta del governo georgiano, eh, dimmi, per aiutarlo ad affrontare i ribelli lungo il loro confine russo, sì, la nostra zona di operazioni è la regione autonoma dell'Ossezia meridionale, 1500 miglia quadrate, piccoli villaggi e terreno accidentato gli ossetici hanno lanciato attacchi sparsi all'esercito georgiano per anni, ma recentemente questi attacchi sono aumentati fin quasi a diventare una guerra in piena regola, Washington pensa che i russi abbiano architettato questo aumento di ostilità come pretesto per avanzare e annettere l'intera regione, il nostro compito è stroncare la rivoluzione prima che avvenga tutto ciò, la nostra prima missione è un attacco a una base ribelle nelle montagne del caucaso, un capo ribelle di nome Bakur Papashvili ha attaccato numerosi convogli dell'esercito lungo il fiume Terek, voi dovrete prima eliminare questo posto di guardia, quindi colpire il suo accampamento principale, troverete Papashvili nelle caverne alla sommità della collina dove ha organizzato il suo centro di comando, prendetelo vivo se potete, ma ricordate che non si arrenderà prima che le sue guardie siano state tutte eliminate. Ok, comunque i video iniziano sempre dal briefing, questo qua è il primo video, ci faremo così allora, i vari obiettivi, questi sono i tre obiettivi obbligatori per fare, da fare se, per finire la missione questo qua è l'obiettivo, eh, facoltativo che si sbloccherà delle unità un po' più decenti allora, mamma mia, allora io un po', sì, io di solito qua sceguo i nomi più divertenti quindi, Van de Vert va scritto così, Maxwell, vediamo un po' anche le statistiche comunque dobbiamo prendere Reynolds che ha tutto e due, allora c'è un po', anche Beado, no Beado no c'è Smith, come c'è Washington, questo qua è Washington, vabbè comunque per ora i demolitori non servono perché non dobbiamo distruggere niente, però Glendening questo, questo sì e prendiamo, prendiamo Reynolds, perché se Reynolds un po', abbiamo un altro nome divertente magari un, il Van de Vert, Van de Vert, ok, perfetto, questa è la nostra squadra, ci posso fare, eh, fino a otto unità, divise in tre squadre, oh no, no otto, sette unità, perché sì, sette unità divise in tre squadre, sette o sei, perché posso mettere tre, tre e uno però per la prima missione non è molto difficile, quindi andiamo con Van de Vert, no con Reynolds con Reynolds, perché, quindi Reynolds e Glendening, avanti, dai, aspettiamo un po', vediamo quanto volte muoio, bisogna mettere un counter delle morti, eh, vediamo quanto sarà, cioè vedete quanto cazzo cammina piano, cioè possiamo fare così, però per tornare indietro, però adesso, per tornare indietro, userò i trucchi, cioè userò a mano, andrò la corsa rapida, perché veramente, guardate, allora, vediamo un po', di non morire, anzi, facciamo così, cosa è F6, 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 F7, caricamento rapido, perché veramente, bisogna cominciare, beh, beh, allora, vediamo un po', già non vedo una mazza, dobbiamo andare, se sbaglio, i nemici sono circa qua, in questa zona qui, i nemici, perché, ragazzi, l'ho giocato più e più volte, una volta non sono mai riuscito, da quando ero giovane, che adesso sono vecchio, non sono un anziano di ben 24 anni, non ho mai riuscito a finirlo, però grazie a questa cosa dei quick save e il quick load e il suo giusto a finirlo, perché sennò crepano tutti quanti e muoiono, ok, cammina con calma e circospezione, sperando che non incontrano nessuno subito, guarda, fammi vedere un attimo dove siamo, ok, più o meno qua, dovremmo incontrarli subito, eh, io ho una paura, ma comunque questo gioco, oltre ad essendo un rage game, è anche un gioco horror, e i jumps che giuro, è da cagarsi, ma no, non so se c'è qualcuno, vediamo un po', un secondo, c'è uno lì, vedo qualcosa, aspetta, c'è uno, sì, sì, è quello lì, aspetta, crepa, ok, bravo, allora, non so se ce ne sono di più, dovrebbero esserci due o tre, un attimo che controllo, verifichiamo per bene in mezzo alle frasche, nel dubbio io faccio così, F6, qua bisogna salvare ogni volta, ok, un attimo, eh, che controllo, verifico, anzi, mettiamo che sparano tutti quanti, così, fuoco a volontà, cioè i bot, ragazzi, gli alleati sono, a volte sono stupidi come lo schifo, e sono, a volte, sono furtissimi, tipo, prendono gente che, eccoli, prendono gente che voi non vedete mai, crepa, eh, che cazzo, vediamo un po', devo, ecco lì, fammi bastardo, lo prego, no, non l'ho preso, marito, marito, proprio, cominciamo, sì, no, fermo, devi stare, fermo, devi stare, dov'è che, eccolo lì, aspetta, aspetta, vedo, è quello, mi sembra sia quello lì, ecco, aspetta, te, no, te, ok, gira una salvata, lf, lf, c'è, ok, c'è un altro tizio però qua in giro, la mia amica mi figlio molto, ecco, oddio santo, sono i tuoi tre lì, eh, aspetta, uomo, si tolga dal mio mirino, porca puttana, basti di incoglioniti del cazzo, allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di carino, sono in tre, là in fondo, mmm, vediamo se, se riesco a tirare la granata, siamo a posto, se no, eh, no, aspetta, eccoli là, diamo una salvata, f6, ok, vediamo se riesco a fare qualcosa di bello, ah, ma che infame, maledetto, si sono spostati, eh, si sono spostati sti stronzi, ma guardali, perché se, eh, quindi tre, perfetto, benissimo, ricarica, ricarica e salva, molto importante, perfetto, ecco, sarà tutto così, perfetto, benissimo, vediamo un po' se c'è, dovrebbe esserci nessun altro, vediamo un po', verifichiamo un attimo, con calma, c'è uno, il radar mi dice che c'è qualcuno, bravi, bravi, vedi, vedi, così si arrangiano un pochino loro, non devo ammazzare tutto io, come se non me sto gioco è meglio giocato in multiplayer, ok, molto più divertente, secondo me è anche molto più ansiogeno, allora, cos'è che dobbiamo fare, un attimo che, controllo, qua un attimo, eh, naturalizzato perché occupo le caverne, e ritorno alla zona di inserimento, ok, quindi dobbiamo, aspetta, c'è qualcuno qui, se non mi ricordo, qua c'è uno, mi sa, qua sopra c'è uno, se non sbaglio, eh, se non potrei ricordarmi male, eh, vediamo un po', se c'è qualcuno qua, dovrebbe esserci uno lì, eh sì, facciamo così, va, perché c'ho la mirata, eh, lo mancatissimo, orca troia, scusa, scusa, ma è lì, l'ho visto, cioè, è un po' complessa la questione, ok, c'ho, ah, ok, vittima confermata, mamma mia, però, eh, risalva, risalva, è altro che, è altro che, ragazzi, se volete un gioco horror, giocate a sta roba, pigliate un infarto di quelli, ok, perché a volte non sapete dove mi spanno e crepate istantaneamente, dovrebbe essere c'è qualcuno qua, no, andiamo nel campo prima, nel campo quello base, uh, si blocca, che cazzo si blocca Rostreco, ma santi che ho un computer di merda proprio, ragazzi, veramente, ok, via via, veloce, veloce, quanto piano, run, perché santo Dio, oh là, vedi, così si fa, perché veramente, io capisco tutto quanto lo stealth bellissimo, ma porca puttana, c'è un limite, la mia pazienza ha un limite, ok, però non è che sto, li bottano l'embo, appena li vedono da vicino, aspetta, aspetta, eh, no, di qua, c'è uno lì, no, è il coso sporco, è un cazzo di, è di, come si chiama, di schermo sporco, comunque solo io sono veloce, non gli altri miei, quindi, eh, proprio, io mi cagerei bene in mano, invece, ok, facciamo un giro larghissimo, proprio, gigante, ok, dovrebbe essere qua dietro, sì, bene, ma questi sono i tipi giochi che mi piacciono, ti mette in una fottuta mappa, fai quel cacchio che vuoi, è in mezzo sandbox, in realtà, perfetto, allora, dovrebbe esserci qualcuno qua, aspetta, eh, ho che non crepare subito, un uno, massimo due con il pissimore, perché essendo realistico, si sta, c'è, ok, aspetta, 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 calma, vediamo se mi vedono, potrebbero vedermi, eh, la mia tattica è quanto discutibile, eccone lì, aspetta, là, ok, perfetto, benissimo, sucate tutti i bastardi, ricarica qua sta cosa, quanto ci vuole ricaricare una granate, cinque ore, ok, anzi, salva, eh, vi fare tutto da capo, comunque vi farò vedere tutti i tentativi, tutti i tentativi, vi farò vedere, che cazzo di paura, da dove, da dove, mortacci vostra, non so da dove, non so da dove, è da davanti, può darsi, si è da davanti, eh, facciamo, facciamo di qua, perché ci sono due, vicino alle caverne, là, ci sono due stronzi, fanno guardia, non so se c'è qualcuno qui, può darsi che ci sia qualcuno in questo spiato qua, però, non è mica obbligatorio ammazzare tutti, sinceramente, eh, c'è uno lì, o è dei, sono dei sassi, e non sono dei sassi, fanculo, va, ok, vediamo un po', lo metto qua, ok, ma non so perché metto il visore del turno, a volte con il visore del turno si vede meglio, un pochino, ma sono scemi, raga, raga, ve prego, venite, ho capito che siamo tutti agitati qua, però, avanti, se me c'è qualcuno qua, ma, dunque la missione, la prima missione è abbastanza semplice, non è che ci sono tante cose da fare, le minchia sono, dove è, qua l'entrata, qua in fondo, però verso la fine, anzi, le, mi sono incastrato, le, le missioni quelle delle espansioni sono velenose, ma velenose proprio, mi sa che mi hanno visto, mi sa, mi sa che mi hanno visto, cazzo di lì, cre, crepa, crepischi, ho che c'è un altro, aspetta un attimo, è che, ok, me lo sto aggiustando per il, beh, adesso mi ammazza, sicuro, perché, no, fa il culo, va, che palle, vabbè, comunque siamo qua vicino, ma è comunque ogni volta che, dove, dove, c'è nessuno, insomma, è questa l'entrata, sì, ma ogni volta che si ricarica la partita, bisogna rimettere i trucchi, quindi, un po', vediamo un pochino qua, se c'è, che cazzo di mori, ah, ma fa culo, va che roba, ma va che roba, ma avete visto, che cazzo di roba, scusa che tanto, cioè, devi andare calma, con, proprio calmissimo, facciamo, mettiamo il burst, va, io devo andare con calma, perché se no mi agito, dai, e vieni fuori, bastardo infame, crepa, eh, te la do io la vittima, maledetto infame, bastardo, ok, vediamo un po' dove bisogna andare, con calma, ma è, mamma mia, io che, vi faccio vedere che non sono buono a fare i giochi stand, è uno quello lì, è uno, però sì, sì, ok, è uno, salvataggio, ogni chi, bisogna fare un salvataggio, porca troia, mori, ma non, ma, ma, i sudori, ogni volta, mi fa tutti i sudori, ogni volta, che c'è uno, aspetta, eh, aspetta, eh, non è clear, non è clear niente qua, c'è un altro tizio, mi sa qua, da qualche parte, perché mi dice che c'è qualcun altro, aspetta, che controllo, verifico un attimo, ok, dobbiamo andare di qua, ok, questo c'è il tipo morto di prima, qua, questo qua è il tizio che dobbiamo prendere, quindi, facciamo il giro dall'altra parte, rega, rega, togliettivi dalle palle, facciamo il giro di qua, aspetta un attimo, crepa, tu uomo, venga con me, venga con me, in arresto, venga con me, ok, fantastico, abbiamo il prigioniero, ma, come fa, abbiamo il prigioniero, il doppiaggio fa, ho voluto ridere, ok, usciamo di qua, veloce, 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 ma come potete vedere, io sono velocissimo gli altri, no, anzi, pigliamo, dammi il cecchinatore un attimo qua, che, per, 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 ogni volta che si chiama persona, sono mezzo, eh, va, fa culo, ma scusa, no, perché, dove, quando, come, cioè, adesso mi, voglio delle spiegazioni, io non lo so, non lo so, ragazzi, non lo so, a passo da nulla, a passo da nulla per magia, che due palle, però, allora, cerchiamo di non incliccarsi, ma guarda testi, fammi bastardi, allora, e vengono fuori da qua, ma perché, ma non c'erano l'altra volta, mi sa che, ma cambiano, gli spawn cambiano, mi sa, la difficoltà alta, ok, aspetta un secondo, vediamo un po', vediamo un pochettino qui, e sono fuori da qua, però adesso non c'è nessuno, io non capisco, ecco lì, trepa, vuoi morire, oh, mamma mia, è morto qualcuno, no, ok, fratello, ma resti stronzi, che cazzo, da dove, eccolo lì, uomo, allora, l'intelligenza di vita, è stanza stupida anche a volte, mori, vittima confermata, è pieno di maledetti bastardi, ok, c'è qualcuno, posso andare avanti, se è possibile, andare avanti o no, no, non ancora, da dove, andiamo, mi sto, non c'è nessuno, io non mi fido, ma non mi fido manco, guarda, fa culo, è morto uno, che duballe, crepa, sono tutti da lì, è vivo quello lì, sì, era vivo, era vivo, ok, mamma mia, ma quanta gente c'è, non c'era così altra gente l'una volta, ma anche cazzo, ho fatto una strage, se lui sei qua, tutti morti, ok, mamma mia, comunque non so se è più stressante questo, o Geometry Dash, ho appena finito un livello, non so, ovviamente un livello, demone, perché se no, se no, che cazzo giochi Geometry Dash, farei livelli semplici, ok, andiamo, andiamo avanti, sperando di non incappare qualche brutto signore qui, nel fondo c'è una casuppola, non me ne frega una sega, andiamo via, andiamo via proprio, corri, mettiti in mezzo alle boscaglie poligonali, perfetto, avanti, avanti, mi ho mangiato un capello, ok, vedete, quanto manca, mamma mia, quanto manca ancora, ci immaginate fare questa parte solo con la corsetta, quella stupida, io mi sparo in testa, non è possibile, sto già a 20 minuti, ok, corri in diagonale proprio, quanto manca, ah no, ho già passato, ho già passato, scusate, scusate, ho poi solo perso, ok, signore, e questi qui, chi è? ma questi qua dove, guardali, ecco lì in fondo, repa, mi sembra il cecchino, mi serve il cecchino, cecchino venga qui, allora, si toglie i piedi, allora, salva, c'è tanta gente comunque, beh, io un po' se, vedo, vedo qualcuno, non vedo, non vedo, non vedo dove, eccola, ok, bene, bene, uff, tira un'altra salva, ragazzi, scusate, ma sto salvando più di quanto dovessi, però veramente, eh, provate a giocarci, sta roba, eh, costa 10, eroso team, non ho preso il sconto, 3, ok, sono sdraiato, sì, aspetta, eccolo lì, perfetto, provateci, provate a giocare questa roba, senza salvataggi, creperete in una maniera, guarda, come i bastardi, c'è qualcuno lì, no, no, perché l'ho mazzato prima, lì, ok, avanti, avanti, anche la bottiglia, schiocca, ok, no, dov'è, eh, qua, di qua, di qua, di qua, aspetta un secondo, via, via, via di qui, non manca, tanto, dai, manca, quanto manca, oh, madonna, aspetta, eh, calma, corre, fate una corsetta nel bosco qua, molto salutare, ok, e non manca molto, in teoria siamo a posto, in teoria, però, eh, c'è sempre il culone dietro l'angolo, ringraziamo Dio che non, eccole lì, porca cattola, calma, calma, sei calmo, calma, 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 allora, frasca, frasca, prendi i bandi aperte, che devo ancora fare qualcosa, poverino, aspetta un secondo, ogni volta è un casino, ogni volta, ok, frasca, salvataggio, aspetta, eh, dove che sono, sono qua davanti, non è che li vedo, eccole lì, aspetta, spariamogli a mano, va, questo è un coglione, tiè, questo è un deficiente, l'ostaggio, mamma, mamma mia, si mette davanti, si fa sparare, ma sei un critico, guarda, da dove, non è morto nessuno, non so per come, è possibile questa cosa, giù, non so come non sia morto nessuno, ragazzi, veramente, intanto abbiamo il salvataggio dietro, aspetta, salva, salva qua, l'ho visto, è corso, bravi ragazzi, nemico ucciso, dov'è, è qua, vado in avanti, con molta circospezione, che cazzo sono, parliamo della minimappa, ti dice dove stanno i nemici, qua non c'è nessuno, è qua dentro, è qua dentro, per forza, è quello lì, affanculo, che palle, maledetto, infame, bastardo, aspetta un attimo, adesso, mi hai proprio scassato i coglioni, mamma mia, eccolo lì, ho visto quel di bianco, mamma mia, è lì dentro, gli avversari, gli avversari, gli avversari, gli avversari, gli avversari, gli avversari sono bravi, adesso devo, devo stanare questo, aia, ma no, no, ragazzi, non si vede, questo cristiano non si vede, crepa, crepa anche tu, ma vaffanculo, è morto, è morto, è morto il cazzo di costaggio di merda, oh, allora, adesso c'è questo qui, io non so cosa fare con questo, c'è quello là dietro, io non so cosa farci, allora, regà, c'è questo qua che, non so, eccolo lì, crepa, madonna mia, c'è, due o tre volte, crepi e raffica, vabbè, maledetto, bastardo, è ridicolo, siamo giusti? Oh, siamo arrivati, mamma mia, campano dietro il cazzo di alberi, e muori come, cosa, cosa mi bagga, cosa, cosa che mi bagga, ma siamo arrivati a fine mappa, ok, dai, regà, siamo arrivati, eh, bisogno di un computer, oh, mamma mia, oh, fammi sentire, oh, la canzone, questa canzone, oh, che soddisfazione, ragazzi, per questo momento di Ghost Reck volviamo concluso, ci vediamo, ci vediamo, al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.